24 settembre, un saluto, buon sabato, buon weekend a tutti, buona giornata, cari meci rossoneri, come state? Immagino, immagino, però insomma, forza, forza, forza e coraggio tutti, tutti insieme, uniti, lasciami un bel like qui sotto, iscriviamoci qui, se non avete ancora fatto, mi raccomando, numerosissimi. Devo dire che se non fossimo passati dalla scorsa stagione, oggi sarei sotto un treno, metaforicamente parlando. Però, siccome siamo passati dalla scorsa stagione, quando a certo punto ero sotto un treno, psicologicamente, dico che piangerci addosso davvero non porta a nulla, e quindi proviamo a ponderare un po' tutti gli elementi che abbiamo in mano e a cercare di pensare in qualche modo positivo, nonostante, insomma, la situazione sia diventata, anche questa volta, surreale, per via, tra l'altro, di queste maledette nazionali, gare che personalmente interessano meno di zero e che portano soltanto soldi nelle casse di qualcuno e infortuni nelle gambe di qualcun altro. Problemi e giramenti di scatole, dunque, per tanti altri. Tra l'altro, ieri il CT della Danimarca ha detto che Kier, il Principe Zero Kier, ha un dolore alla caviglia e che andrà verificato oggi, perché sono arrivati ieri sera, appunto, e quindi oggi sapremo se Kier ha un dolore di che tipo. Però, ecco, davvero, c'è sempre la sensazione di avere la nuvoletta sopra di Fantozzi, sconcedetemelo. Menian, questa lesione al gemello mediale, che è un problema non indifferente, perché chi ha fatto anche attività, ma anche chi non ha fatto attività lo sa, è un problema che ti porta, insomma, a controllare con grande attenzione il polpaccio. È probabilmente il muscolo più fastidioso con linguine, appunto, per quanto riguarda pubalgia e polpaccio, sono i problemi più fastidiosi che rischi di portarti avanti se non curati a dovere. Ieri sera il comunicato del Milan, con poi anche la comunicazione che dovrà essere verificata il livello di questa lesione. Lesione c'è, lesione c'è. Ieri, persona molto ben informata, che saluto e ringrazio se ci sta seguendo, prima ancora del comunicato mi aveva informato che si trattava di un problema serio e testualmente il Whatsapp ricevuto una mezz'oretta prima del comunicato del Milan diceva almeno un mese. Vediamo, aspettiamo poi l'evolversi, sperando che ci possano essere buone notizie, però, in questo momento, ragionando insieme a voce alta, direi che possiamo provare a ragionare sul mesetto. Se poi sono tre settimane, ben venga. Se sono cinque settimane, vabbè, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Questa situazione sicuramente non ci voleva. Milan, quindi, dovesse stare fuori un mese, come data oggi abbastanza dell'entra realtà sotto un mese, secondo me, purtroppo, è molto complicato, ma speriamo sempre. Salterebbe Empoli, Chelsea, Juve, Chelsea, Verona, Monza. Ecco, il Monza è il 22 ottobre. Lui si è fatto male il 21, siamo nel mesetto. Dopodiché la gara successiva è quella con la Dinamo Zagabria del 25 ottobre, appunto. Che cosa succede? Che il Milan, ieri sera, ha valutato molto attentamente e l'idea è poi la volontà di togliere Mignan dalla lista e inserire Tatarusano. Non perché non si fidi di Mirante, ma perché se poi viene un raffreddore a Mirante devi far giocare il portiere della primavera. Le gerarchie, comunque, in questo caso vengono ristabilite perché Mignan è il primo, Tatarusano è il secondo e il terzo è Mirante, appunto. Con, già vi ho ipotizzato questo, qualcuno contestava, no, cosa dici, non si può, eccetera, eccetera, invece sì, sostanzialmente tiri fuori il portiere Mignan per un mese e dopo un mese può rientrare tra i pali, quindi salterebbe Chelsea e Chelsea e sarebbe disponibile per la gara con la Dinamo Zagabria se viene fatto il tutto prima del 25, perché siamo, appunto, il 25 ottobre alla gara con la Dinamo Zagabria. La speranza, appunto, di recuperare per quella gara lì, poi c'è Torino-Milan, Milan-Salisburgo, Milan-Spezia, Cremonese-Milan, Milan-Fiorentina, prima della sosta. È vero che poi c'è il mondiale, quindi lui non credo che rischierà, in ogni caso non si può rischiare con il polpaccio. L'anno scorso era stato preventivato uno stop di tre mesi e è rimasto fuori un mese e mezzo, però era diverso, era un incidente traumatico, questa volta ci si è alessata collaborazione, questa volta però il polpaccio non ti permette per definizione di accorciare i tempi e quindi siamo aggrappati ai guantoni di Tatarusano, siamo nelle mani di Tatarusano, giocatore che ha 36 anni, alto 1,98, ultimo anno di contratto e detto così sicuramente può far paura, però ragazzi ricordiamoci l'anno scorso com'è andata. Lui, tra l'altro Milan si fa male in nazionale, questa volta si fa male in nazionale è davvero qualcosa di incredibile per un portiere poi una sfortuna cosmica. L'anno scorso lui gioca, ecco qui le partite che gioca Tatarusano, le vado a recuperare subito, parte il 16 ottobre contro il Verona vinciamo 3 a 2, poi gioca il 23 ottobre vinciamo 4 a 2, il 26 ottobre contro Bologna vinciamo 1 a 0 col Torino, il 31 ottobre vinciamo 2 a 1 con la Roma, il 7 novembre facciamo 1 a 1 nel derby quando lui para in rigore a Lautaro, che a conti fatti è stato determinante per lo scudetto. Poi il 20 c'è la gara con la Fiorentina in cui esce male su un calcio d'angolo, la prende, la perde, segnano e lì aveva avuto sulla coscienza appunto i tre punti, mentre in Champions League aveva fatto la partita con il Porto persa, l'altra pareggiata ed era stato in porta con l'Atletico Madrid quando avevamo vinto. Tendenzialmente un po' per tutti i numeri 12, quando entri devi prendere un po' le misure e poi trovi il tuo equilibrio che puoi fare. Quindi probabilmente lo stesso sarà anche questa volta, detto che magari appunto come è successo lo scorso anno, attacco, centro campo e difesa, sapendo di avere Mignon a livello psicologico magari si responsabilizzano ulteriormente e vanno a sigillare la nostra area, cosa che fin qui non è successa spessissimo. Forza tata, forza tata, non ci resta che dire così. Ecco, il peccato in chiave Champions non averlo per le due gare con il Chelsea. Il peccato in chiave campionato non averlo con la Juventus, dopodiché è sempre meglio avere il nostro Mignon, però ecco, almeno proviamo a vedere bicchiere mezzo pieno, a parte la Juventus, non ci sono partitissimissimissime complicate, ecco, perché c'è l'Empoli là, da non sottovalutare, appunto la Juve, poi c'è Verona, Monza, si rientra magari per il 30 ottobre contro il Torino, l'abbiamo in campionato a livello di carte, non di campo, sfangata. In ogni caso, ragazzi, sfortuna che sul Milan e sul Mignon ci vede benissimo ed è davvero qualcosa che se ci avessero raccontato figurati. Io poi, in estate, avevo fatto un video dicendo comunque che secondo me sarebbe servito anche un numero 12. Non è arrivato, l'anno prossimo però arriverà sicuramente, perché Tatarusano smetterà, probabilmente anche Mirante, e vi dicevo in un video qualche giorno fa, ieri, l'altro ieri, che il Milan sta seguendo Terracciano della Fiorentina e c'è anche Sportiello che viene offerto al Milan come ipotesi di numeri 12 che tendenzialmente non giocano mai, al Milan purtroppo abbiamo avuto l'anno scorso e quest'anno anche questa necessità. Vediamo l'evolversi, sperando che Mignon ci stupisca anche questa volta e che rientri in tempi brevi, però per i tanti che mi avete chiesto ragioniamo oggi sul mesetto, qualche giorno in più, qualche giorno in meno, speriamo meno, però siamo su quella falsa riga, una lesione al polpaccio, è una cosa seria, i medici mi dicono almeno un mese, poi vediamo appunto, speriamo meno. Forza Tata, un anno fa sarei stato disperato, oggi mi dispiace, ma non mi dispero, perché l'anno scorso siamo stati più squadra di tutti, nonostante mille difficoltà, e con Tatarusano comunque abbiamo fatto in campionato quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Eliminiamo la sconfitta, mi può andare bene un pari, ma le altre devono essere vittorie come lo scorso anno. Quindi forza Tata, forza Mirante se ci sarà bisogno di lui, e si va avanti ragazzi. Una sfortuna cosmica e una inutilità dannosa di queste nazionali, dei quali magari parliamo anche dopo in un video. Vi mando un abbraccio, forza Minoggi più che mai, domani ancora di più, sosteniamoci, a vicenda, sosteniamo il nostro Magic Mike, ecco una cosa, cercherò di far avere questo video a Mignan, quindi scatenatevi con i like e i commenti, commentate, e facciamo sentire il nostro calore, il nostro numero uno indiscusso, ma anche un grande in bocca al lupo a Tata e a Mirante. Iscrivetevi numerosissimi ragazzi, e viva il Milan, sempre, sempre, sempre. Un abbraccio, forza, dai, forza, forza.